Sì ragazzi, buongiorno, prima delle cose, domenica, 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 domenica bene? Io solo ti vede una cosa, questo video di questo nuovo video di oggi, viene al 5. alle 4 sono su un cortile poi le 2 sono in cortile no, le 1 non vado in cortile le 2 si la terza si poi le mensage faccio il video se avete occupazione con Vera va bene ciao ciao